La testimonianza di una persona estranea alla famiglia, presente in casa al momento dell'aggressione. Macca aveva ucciso il padre a coltellate dopo l'ennesima lite violenta. Aveva confessato immediatamente ai carabinieri giunti sul posto. Da anni l'uomo sottoponeva moglie e figlia a continue percosse e violenze. Quel giorno Macca, 18 anni, aveva deciso di interrompere quella lunga sequela. La vittima si chiamava Al-Kad Sulayev, 50 anni, origini russe, migrato dal Caucaso qualche anno fa con tutta la famiglia. L'uomo era stato accoltellato all'addome, soccorso dai medici, era morto poco dopo. Tutta la famiglia lavorava nel ramo della ristorazione, lui lavapiatti, la ragazza cameriera. Anche la mamma lavorava in un locale. Macca era fra l'altro iscritta con ottimi risultati al terzo anno del liceo scientifico.